Studenti in vacanza, ma scuole che purtroppo ad agosto si popolano di ospiti estremamente sgraditi, come quelli che nella notte appena trascorsa hanno vandalizzato l'Istituto Agrario Cecchi. I gnoti si sono infatti introdotti a Villa Caprile devastando diversi locali a servizio dell'Istituto Superiore, in particolare l'azienda agricola interna al perimetro della villa. Vandali che si sono accaniti sulla tensostruttura della rimessa attrezzi, distrutta e completamente da ricostruire. Vandali che sono penetrati anche all'interno dell'officina dove hanno preso delle piccozze e delle tronchesi con cui danneggiare gravemente magazzino, locale cucina e aule container. Violata pure la mensa in cui sono stati distrutti i prodotti alimentari della dispensa, sono stati aperti i frigoriferi sottraendo vini, spumanti e bibite, così come sono stati danneggiati gravemente materiali elettronici come telefoni e pc. I vandali sono entrati anche in una classe container da una finestra scorrevole mettendo completamente a soccuadro il locale. Anche in questo mese di agosto la scuola è aperta, in particolare al pomeriggio dove si organizzano le visite guidate a Villa Caprile. Operatori scolastici presenti pure al mattino, tant'è che i primi arrivati alle 7.30 si sono trovati davanti uno scenario di estrema devastazione. Subito allertato il 113 che poi si è avvalso dell'intervento della polizia scientifica per i rilievi delle diverse impronte presenti. Indagini in corso in tutta la giornata odierna, così come nei prossimi giorni, con la vicepreside Chiara Fiorucci a coordinare la maraconta dei danni e degli ammanchi da eventuali furti per avere tutti i dettagli utili alla denuncia. Prontamente avvisata la dirigente scolastica Donatella Giuliani che è in ferie e prossima al pensionamento, così come il futuro preside Riccardo Rossini che a settembre si insedierà dopo decenni di servizio al liceo Marconi. Indagini che hanno un filo diretto naturalmente con l'amministrazione provinciale, ente deputato al coordinamento e manutenzione degli istituti superiori. Il presidente Giuseppe Paolini ha espresso ferma condanna per l'accaduto e promesso il massimo impegno per ripristinare le attrezzature danneggiate. Il dirigente dell'edilizia scolastica provinciale Maurizio Bartoli ha garantito che una volta avuto il quadro completo dei danni scatteranno immediatamente le procedure con l'assicurazione.